Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. In questo video farò lo spacchettamento di Michelle Nays. Se non avete visto il mio video precedente, ho fatto lo spacchettamento di Passione Unghie, di cui parlo maggiormente dei gel costruttori e quant'altro. Quindi, se volete, date un'occhiata anche col video, che è molto interessante. Non fate come me, non tenete le claudici in questo momento che rischiate veramente di farvi male. Ok, vediamo. È la primissima volta che ordino da Michelle Nays. Ho comprato tantissime cose perché ho visto recensioni molto positive, mi hanno parlato molto bene e non mi sono risparmiata a fare l'ordine. Vediamo. Anche il prezzo, vedete? È molto salato. Però speriamo che i prodotti... Allora, anche qui ce l'ho immagino, non lo sapevo. Allora, l'ho immagino per te, ma qui lo apriamo alla fine. Chissà cosa danno qui. Vediamo. Allora. Allora, vediamo. Queste 24 lime 100x180. Una volta che inizierò ad utilizzarli, vi dirò se ne valgono la pena. No, no, magari vi dico già anche i prezzi, così chi vuole comprarlo? Non so cosa fare, è la prima volta. Non so se dirvi anche i prezzi, se no... Sì, dai, aspetta, se riesco, guardo un attimo, se no mi perso, mi perdo via. Allora, 24 lime, costa... Sono costati 13,11 euro. Guardate. Il prezzo è buono. Ottimo, quindi... Mi sa che continuerò a comprarli questi. Però li utilizzerò meglio. Allora, andiamo ai buffer. Adoro tutti questi colori. Mi adoro. Sono dieci pezzi. Dieci pezzi buffer. Sono costati 7,37 euro. Sembrano però molto resistenti. Sembra che si possono usare tanti utilizzi con uno di loro. Quindi, molto bene. I colori fantastici, molto acceso, mi piace. Andiamo avanti. Eh sì, sentite i cassetti perché io intanto che vi le faccio vedere li metto già via, così non ci penso poi dopo. Allora, ok. Sono molto curiosa dei loro gel perché mi hanno parlato e riparlato e riparlato le altre mie colleghe. Quindi, ho voluto provare a prenderne uno perché non conosco la marca, non conosco bene se mi troverò bene con il loro gel. Questo è della, so che si chiama la sezione perché nel loro sito ci sono varie, tantissime sezioni diciamo. E c'è anche quello di Gelli Gel. Lo apro subito perché sono curiosissima. Oh no. Ok, apriamo anche questa. Vabbè, con questo sporco. Vediamo questo. Ok. Aspetta, non voglio fare il danno, quindi torniamo qua. Spero di non farvi venire il mal di testa, ma posso vincere dalla telecamera. Allora, vediamo. Oddio. Devo dire la verità, questo gel l'ho comprata guardando il video di Valentina Nils. La trovate valentina.m77 su Instagram. Guardavo i suoi video su YouTube. E aveva parlato bene di questo gel che è trasparentissimo e lo voglio provare. E' anti giallo perché vedo che c'è dei riflessi viola. Sì. E vediamo la consistenza. Vediamo. Sembra proprio, non so. Non devo provare. Perché vedete comunque appena lo prendo rimane, cioè non cola. Rimane bello fermo qui dove l'ho preso. Però poi quando faccio così, comunque c'è il filone. Sembra molto facile, ops, non cade neanche così. Sembra molto facile da usare. Sembra molto facile da utilizzare. Lo devo provare assolutamente. Poi taglierò la pellicola. Vediamo. Non sono sporcata come sempre. Allora. Andiamo. Ah, il prezzo. Uppi. Vediamo un po' il prezzo, il prezzo. Jelly Violet si chiama. Violet trasparente. 12,29 euro. E quanti ml? Vediamo. 30 ml. 30. Ecco. Ed è costato 12,29 euro. Non so, volevate sapere anche quelli di Passione Unghie e di prezzi? Se me lo chiedete nei commenti, ve lo metterò subito nell'info box. Andiamo oltre, perché soltanto perché non ce l'ho qua a portata di mano, perché ho aperto il pacchetto in un altro posto, non qui in studio. In casa l'ho aperto. Mi piace tantissimo questa sacchetta, ma è un omaggio? Non riesco a capire. Vediamo che bella sacchetta questa. Apriamo. Oddio. È un omaggio, ma fantastico. No, aspetta. Aspetta che leggo. No, non l'ho comprato io questo. Ma è per viso? Accetture prep card. No. Gel remover. Ok. È un omaggio. Gel polish remover. Un omaggio da... Dopo aprirò bene insieme a questo. Quindi mi hanno dato due omaggi. Bravi! Grazie! È bellissima questa sacchetta così. Vedete? C'è il taglio bellissimo. Allora. Vediamo. Oh no. No. Non sapete perché dico oh no. Perché? Non mi ricordavo perché questo ordine l'ho fatto circa l'uno, se non mi bagno, circa una settimana fa. Ho fatto l'ordine e non mi arrivava più. E nel frattempo mi sono finiti i pad. Quindi, siccome ho Amazon Prime, ho comprato velocemente un altro, perché pensavo non mi arrivasse al tempo. Ho comprato velocemente un altro su Amazon, che mi è arrivato oggi. Quindi tutti e due oggi. Che comunque questo di Amazon, appena l'ho aperto, non mi piaceva perché... Non mi piaceva perché... Sì, vedete che è molto... Quando l'ho andata a utilizzare. Vediamo se veramente si spappola, non so come dirlo. Però non mi è piaciuto, però lo dovrò usare. Vediamo questa invece. Non vorrei aprirla perché c'è già quello che ho appena aperto. Però vediamo un po' dalla sacchetta. Sembra già un po' più compatta rispetto a quello di Amazon. Sembra molto più compatta. Allora, speriamo. Lo tengo. Eh, ovvero, lo devo tenere, lo compreso. Scusate, parlo da sola. Allora, andiamo avanti. Ok. Invece, numerazione 330. Colore... Sempre nel Pretty Gel. Nella sezione sul sito Pretty Gel. Andiamo. Wow. Guardate. È un bellissimo... Oro, marrone? Non so come chiamarlo. Gold. Non è oro. È sul marroncino. Vabbè. Riuscite a vederlo perfettamente. E ditevi che colore è. Però è un bellissimo colore. Marroncino, brillantinato. Un colore nude comunque. Nude brillantinato. Fantastico questo colore. Bello, bello. Me lo sento già che molti ragazzi apprezzeranno questo colore. Perché è trannaturale. Ah, ecco. Vediamo. Questi che mancano. Questi tre. Questo particolarmente. Questo qui. L'ho preso sotto consiglio della youtuber che vi dicevo prima. Valentina. Però, non so di preciso se va utilizzato per forza con la base che vengono nel sito. Io intanto ho preso solo questo. E proverò a usarlo con altri colori per vedere se fa questo effetto qua che vedete. Dovrebbe fare questo effetto sulle unghie. Quindi non so se metto altri colori come base. Se metto comunque questo effetto. Proverò. L'ho preso per provarlo. L'ho preso nel colore rosso. Quindi dovrebbe fare delle spacchettature rosse. Un bel rosso questo, eh. Andiamo. Colore 02. Crack. 02. Crack. Questo invece è il colore termo che, ragazzi, ascoltatemi bene, cambia colore in base alla vostra temperatura del corpo, oppure se avete le mani sott'acqua, oppure se avete freddo, caldo, qualche altro. E in pratica questo cambia colore. Dovrebbe diventare da che colore a che colore. Ora non me lo ricordo, ora non me lo ricordo. Un video ve lo farò. Poi. Qui si presenta arancione. Un bel arancione, devo dire. Non è proprio arancione, arancione, ma un bel colore. E questo invece è il 5D, questo so cos'è. 5D a catai. Cat eyes. È un rosino? Sì. È un rosino che dovrebbe fare il cat eyes. Vi farò vedere. In un video. Vediamo cosa mancano tutti questi da vedere. Oddio, mi sto emozionando perché sono veramente tante cose bellissime e non ho ancora trovato uno che non mi piacesse. a parte il nero che è un colore comunque normale, basico e quindi vediamo soltanto quando è steso se è un bel coprente o meno. Però tutti gli altri, fantastici. Andiamo avanti. Questo sempre pretty gel, colore 297. Ok, adesso a fuoco. Wow, ma ne ho presi due uguali? No, non sono uguali. Questi sono i glitterotti più rossi. Adesso vi faccio vedere l'altro. Questo è Magic, colore 49. Questo invece è Pretty gel, colore 297. Apriamo tutti e due. Guardate. Sono diversi. Questo è Magic. E questo è Pretty gel, che sono i brillantini più grossi, leggermente. Li adoro. Bellissimi. Belli, belli. Si possono fare tantissimi effetti diversi con questi due colori qua. Mamma che belli. Mi immagino già tutti i decori che potrò fare. Allora. Sono veramente contenta. Non so. Forse. Allora, questo è nella colorazione. Cos'è? Non c'è colorazione. È sempre Pretty gel. E dove? Magari. Vediamo cos'è. È un colore, ma perché non ce l'ha il numerino? Si saranno dimenticati. Ma come lo identifico ora questo? Non so. Come? Non lo so. È anche un bellissimo colore. Ve lo metterò nei commenti. Nella nei commenti. Nella info box. Se vi interessa, guardatelo. Guardate che bel colore questo. Sembra un metallizzato. È un blu metallizzato. Cioè, non un metallizzato. È un bellissimo blu. Tipo, c'è delle cosine dentro. E' un bel colore. Bello, bello. Allora, questo è invece 180. Pretty gel. Vediamo, vediamo, vediamo. Mamma mia. Sono chiusi veramente bene, eh. Questi colori. Sono chiusi. Se non hai mangiato bene, non riesci ad aprirli, eh. Sto facendo fatica con questo. Non riesco ad aprirlo. Dio. Mamma mia. I denti. Ah. I denti. Mi aiutano. Sempre. Wow. No, vabbè. Questo è tipo un shocking red. Alle mie clienti piacciono un sacco. Impazziranno. Guarda che bello. Ragazzi, è arrivato il shocking. Vi aspetto. Ehm. Come lo chiamano loro? Vabbè, non c'hanno i nomi. Quindi, perché sono abitata passione che c'ha i nomi per ogni colore. Questo invece è il numero 180. È stupendo, eh. Non perdetevelo a questa. Che è proprio bello. Andiamo avanti. Questo colore, sempre pretty gay gel, 272. Ah, questo è aperto. Color pugna. Color prugna. Bello. Mi piace molto questo colore. E' poi molto elegante. Si usa tanto anche in questo periodo. Ok. Questo è gel polish. Numero... Non c'è. Comunque è gel polish. Vedete qui? 04. Ecco. Scusate. Ho detto che non c'era. 04. Dovrebbe essere un brillantinato, eh. Adesso ve lo apro. No, vabbè. Amiche glitterozze. Guardate. Guardate. E' proprio bello. Poi... Penso che con i colori abbiamo finito. E mancano queste cosine. Queste cosine qua. Guardate. No, non escono. Allora, io ho preso anche questo. Ecco. Faccio anche questo. E faccio. Prima se mi escono tutti. E ce la faccio. Ok. Allora. Iniziamo da queste due. E poi le metto tutte in piedi. Così. Tutto. Ok. Ho preso questi due. Che sono le punte. Questa è per pulire sotto... Sotto lunghetta. Nel momento del refill. Metti a fuoco. Ok. Molto comoda. Molto bello. Ok. E questo per smontare. Molto bello. E andiamo a... Queste cose che mancano. Cioè, questo è un mix di... Cioè, questo è un mix di... Zoroschini. Di pietre. Apriamo. Non voglio cliccare. Nel limite. Però ne vedo già due che stanno scappando. Ok. Wow. Ma... Metti a fuoco. Aspetta, ho dovuto togliere questo. Così magari mette a fuoco. No. Ok. Vediamo. Cosa c'è qui dentro? C'è l'alberello anche. C'è la scarpina. Quante belle cose. E il glitter rosso, verde. C'è di tutto qui dentro. Di tutto. Non perdete tempo. Venite. A utilizzarle. Sono... Wow. Ok. C'è il bicchierino per... Molto utile questo, ragazzi. Per... Il poligel. Perché io uso anche il poligel. E... Vediamo qua. Questo è un... Gel color. No. Vabbè, li apriamo niente di che. Mmm. Ok. Ok. Nella colorazione... 3,9... No, scusate. 3,9 F. Sempre un cromo multicolor. Multicolor. Per non farmelo mancare mai. Insomma. Ho preso tre simili. Questo è molto simile al primo. Dov'è? All magic. All magic. All magic questo. Però è uno in gel e l'altro semi permanente che non è uguale. Mette a fuoco. Molto simili. Sono uguali. Però... So già che... Le userò tantissimo. E... Vediamo questo. Lo apriamo. Oddio, sto scendendo sotto il colore. Ma che cos'è questo? Ah... Ecco perché... Questo... È un... Adesso... Spider. Se non sbaglio. Sì. Dovremmo... Non ci credo. Ok. Tutto a posto. Soltanto che... Adesso... Come femmo... Oh... Oh mamma no. Come fate voi a togliere... Se è tutto così... Appeccicoso. Giriamo, 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 giriamo. Oh mamma. Mi faccio il spider su. Eccolo qua. Fatto. Allora. Questo è il spider bianco. Bianco che è un effetto... Che voglio tanto provare. Guardatelo. Molto denso. E dovrebbe fare le... Le rigliette. Di spider. Allora. Sporfato. Andiamo all'altro colorino. Vediamo. Ho preso solo uno di spider. Mi sembra che... Sì. Solo quello bianco. Andiamo a questo. Cos'è? Oh no. Ho preso due. Allora perché qui c'è l'etichetta e qui no? Perché? Sono tutti e due spider. Questa è bianca. E questa... Numero... Undici... Trattino... Apriamo anche questa. Non voglio farmi male. Allora... Ok. Madonna. Un bel oro. Molto bello. Quest'oro qua. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Ce la posso fare. Fatto. Si dovrebbe... E' molto pigmentato. Molto bello. Oro. Bello. Perché su questo c'è la... Andiamo qui no? Vabbè. Succede. Mettiamo qua. Passiamo oltre. Vediamo. Io veramente non sopporto aprire questi cosini... Con la pellicola così. Perché... Mi sporco tutto. Perdo tanto prodotto. Perché rimane tanto sul tappino. Non so voi come fate però... Allora... Andiamo... Questo... Questo è un nero... E' un nero che all'interno c'ha delle... C'ha un effetto... C'ha un effetto... Guardate... Oddio... Mi riesco a farvelo vedere così. Vedete? Quando lo estenderemo... Vi farò vedere. Però ha un effetto... Ecco vedete lì nel contenitore in quel pezzettino. Ecco. Per fare delle nail art. Carucci. Andiamo avanti. Ah non vi ho dato il colore. E' il numero... Allora... 039F. Nella linea... Secret... Di Michelinize ovviamente. Ok. Se ogni tanto mi vedete fuori... Sede... E' perché sto cercando di aprire senza fare disastri. Ok. Che bel colore è questo. E' un bellissimo colore. E' un rosa, no? Che è ovviamente diverso da questo. Che vi ho fatto vedere prima la numero 49. Di Magic. E si vedete che è diverso. Questo è più tenue. Più nude. E questo è proprio più diventato. Bello. Mi piace. Allora. Andiamo avanti. Non volevo farvi un video lunghissimo. Ma le cose sono veramente tante. Quindi... Per forza. C'è un modo di togliere questo. Senza... Oh vedo già il colore. Questo... L'ho tanto voluto questo colore. Desiderato. Diciamo. Tanto desiderato questo colore. Ok. Ottimo. Forse la tecnica l'ho trovata. Però non mi piace che tutto il prodotto rimanga qui. E quindi... Giù. Ok. È un bel rosso brillantinato. Per i miei amanti del rosso. Potete abbinare qualsiasi rosso con questo. In questo colore. Metti il fuoco. Ok. Ottimo. Numero. 34F. Vediamo. Ci è una tecnica l'alunine. Ok. Andiamo avanti. Vediamo cos'altro c'è. Qui. Colore. 039. 039. F. Sempre secret. Linea secret. Ah. Mi piace. Una meraviglia quando scende. Così. Una meraviglia. veramente. Ho più bel colore. Anche questo che ho. C'è dei glitterozzi più grandi. Questo è più simile a questo che ti ho fatto vedere prima. No. Niente. Quindi sono diversi. Questo è più glitter. Più grossi e più acceso come colore. Questo è sempre più nude glitterato. Bello questo colore. Molto bello. Questi. Vedete. Allora. Poi. Questo. Apriamo sempre secret. Lì. Numero. 100. No. 13f. 013f. Facciamo così. che magari non vedete voi eh. Venti a fuoco per favore. Ok. Forse la tecnica la trovate per aprirli. Ok. Bellissimo. Anche questo. C'è dei. Dell'oro qui dentro. Ha dei riflessi. Oro. Molto bello. Oro argento. Vedete. È un colore. Pesca. No. Neanche. Un bel colore questo. Bello. Ed è. Vediamo sempre il paragone con il Magic 46. Anche con questo è diverso. Perché questo colore qua è proprio nude. Si assomigliano però questo è molto più glitterato proprio leggero. Questo invece è proprio un brillantinato. Allora. E andiamo avanti. Devo dire che questi colori mi stanno piacendo veramente tanto. e so che le ragazze, voi ragazze, le amirete. Allora. Questo è sempre Secret 88F. Non sono a fuoco. Non so perché. Ecco. Apriamo anche questo. Ah, è facile questa volta. Wow. Questo si vede giusto in camera. Sì. È un verde. Che meraviglia. Che meraviglia. C'è. Wow. Aspetta. Guardate. Bellissimo. E ultimo. E poi vediamo i omaggi che mi hanno dato. Oh. Wow. Questi glitterozzi. Rossi. Rossi oro. Molto belli. Direi. Guardate. Tutti da provare sulle vostre ugliette. Finito. Finito. Adesso. Quindi l'unico oggetto preso è questo. E lo devo provare. Vedere. Allora. I miei omaggini. Chissà cosa regalano loro. Li scopriamo. Allora. Prima questo. Che c'è scritto proprio omaggio. Allora. 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 E un gel color. Andora. Allora. sono proprio impedita ad aprire questi cosini qua anche perché ho paura di farmi male una volta è già successo che aprendo circa mi sono infilzata e non sono a fuoco vediamo un brillantinato anche loro mi hanno dato un gel brillantinato quelli che ho comprato non bastavano evidentemente no scherzo comunque vediamo che colore si è un po staccato adesso giro un attimo per vedere il vero colore wow c'è un oro più denso di così guarda no non mette a fuoco allora aspettate ok così sì c'è che bello maggio mi piace un gel color glitterato molto bello molto molto bello questo è quello che mi ha dato passi le unghie e questo michael maiz entrambi molto belli grazie allora ora vediamo quest'altro maggio non so non sapevo che c'essero due due regali questo è un gel polish remover che sta a dire che è per togliere il semi permanente o soltanto apriamolo e lo scopriamo dai che è solo uno cosa dovrebbe essere questo un cleanser mi sembra un cleanser appunto lo sto usando per togliere tutti i brillantini e gel mi sembra più che un cleanser forse serve proprio per il sock off leggiamo qui gel polish remover polish per togliere lo smalto no non lo so però non ha un odore troppo fastidioso e sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci me ne hanno date forse proprio serve per fare il sock off ragazze delle unghie ragazze le unghiette Valentina i youtuber varie aiutatemi con questo problema a cosa servono queste per me sono un per pulire il gel però c'è scritto remover quindi per togliere il semi permanente probabilmente allora a posto è tutto per questo video veramente tutto non posso essere più felice che sono veramente tantissime cose ok vediamo prendiamo questo qui che siamo nel periodo natalizio quindi cosa il natalizio l'ho comprato perché io adoro il natale allora wow 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 sono già emozionata provvedo l'ora di usarli tutti questi sono dei foil ecco che bello questo amberello sono molto belli vi proverò su delle tip e nei prossimi video vi farò vedere se siete interessati scrivetemelo nei commenti se volete vedere che bello questo anche fantastico e questo il prezzo scusate se una volta vi dimentico come si chiameranno questo su e non sto qua a cercarlo adesso però se siete interessati del prezzo ve lo scriverò nell'info box oppure chiedetemelo pure nei commenti molto belli anche questi tutto natalizio bellissimo e anche questi belli quando li ho rinati sinceramente non pensavo che mi arrivasse tutto un pacco però sono contenta che è arrivato tutto vuol dire che potrei usarlo per molto più tempo bello per due natali tre natali quattro natali chi lo sa molto molto belli ah wow non ho visto questo c'è anche questo qui bianco scusate troppo rumore poi 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 come qui ok 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 solid pigment ma scusam in ce la cozine non c'è mi aspettavo pazienza me l'aspettavo ma non c'è ok questi sono i pigmenti che vanno sfregati sulle lunghette ovviamente se volete la prova ve lo farò nei prossimi video scrivetemelo pure nei commenti se volete vedere solid pigment in azione da provare bellissimi i glitter qui dentro mi sembra già bellissimo sono quelli che c'hanno non sono i brillantini brillantini ho paura da quello che mi casca tutto ecco come sono vedete sono i filetti che si mettono nelle unghie per fare con effetto rosso si può fare anche sotto vetro questo è molto belli ma è molto scomodo secondo me questo contenitore ho paura che se lo lascio mi basta tutto vediamo se magari andrà giù proviamo a riaprirlo ok andiamo no è rimasto tutto qui sopra vabbè è meglio lo usirò da lì sopra meglio così anche ok bellissimo ah ma perché ne ho due sono confusa magari è caduto può essere quindi ce l'avevano tutte e due questo è il terzo il primano rosso e oro questo è oro perfettamente bellissimo eh non ci risparmiamo in due cichie non basta mai facciamo anche questo è un po' difficile da aprire perché è un po' pochino mi sembra questo però andiamo andiamo cerchiamo quanto è costato questo questi due preti non so come ne hanno chiamati qui non c'è un nome andiamo forse dietro no neanche polvere solid duo ok questo questo qui polvere solid duo questo qui è costato 5 euro e 32 gli altri non so come sono chiamati quindi se vi interessa vi lascio vi lascerò il prezzo e i commenti oppure scrivetemelo pure nell'info box che volete saperlo allora stickers si mi adorate stickers guarda come sono belli mi piacciono tantissimo il tema natalizialmente questo si chiama making spirit bright bellissimo happy new year happy new year bello per poterlo comprare uguale tutto 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 non lo so no non c'è allora sono stickers natale si chiama nel deco decado decado quindi questi ah ma sono diversi no no sono uguali questo è più bebo natale alberale molto bello molto belli spero che me ne chiedano tantissimo i decori natalizi e questo è uno vediamo poi fantastico molto belli questi per fare questo effetto qui che vedo molto su pinterest le altre mie colleghe se volete vedere in uso questo prodotto ditemelo nei commenti scrivete decoro oro ah ma sono tre sono tre diversi wow aspetta che ok ok bello bello ottimo belli ok poi passiamo questi non ricordo cosa sono perché li ho ottenuti una settimana fa e non sono andato più a vedere cosa ho trovato allora apriamo ma perché tutta questa plastichina e vabbè per tenermi assicurata però a me non piace aprire ah ecco c'è una tecnica che è scema c'è 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 un robino da tirare ed è più semplice anziché prendere la coce ok se ce la faccio dovrei ok e soprattutto per questi ordini dell'amica Maze ho usato il codice sempre di valentina m77 la ringrazio molto per avere uno sconticino ho usato il suo codice magic color allora questi sono i colori ok li apro tutti velocemente metto in pausa il video e torno quando li ho aperti eccomi qui tornata allora sono quattro colori mi piace tanto il fatto che c'è questo robino qua che ti dice il colore che c'è dentro ogni barattolino questo è nero? allora li apriamo questo è magic colorazione 49 abbiamo subito stesa su una tip allora ovviamente mi ha ferito la tip e trovo l'eccesso di polvere vediamo subito questo colore in azione vediamo no mi sa che non ve la metto subito sulla tip perché se no questo video diventerebbe troppo lungo ok ve la faccio vedere e poi in un altro video se volete vedere wow no ma vedete wow non sto neanche esagerando non mette a fuoco talmente tanti è bellissimo ragazzi dovete assolutamente provare questo colore venite a provarlo sulle vostre unghie è stupendo guardate quanti ma è fantastico questo colore spero che esca no sicuramente uscirà ventico nella tip su lunghetta e se volete un video qui lo spendo ditemelo wow che bello che bellezze questa cioè è approvatissimo questo colore ottimo ottimo vediamo un altro che è nella colorazione 48 è sempre magic magic color e poi secondo me sono sock off quindi si possono sciogliere vediamo questo è oro bellissimo anche questo sembrano molto comprendi con i colori vi ripeto non ho mai provato i loro colori colori scusate se ogni tanto sbaglio accento guardate è bellissimo anche questo oddio sta colando è bellissimo anche questo oro non mette a poco ok bellissimo bello 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 farò cose interessanti in questi colori sulle vostre unghiette questo allora sempre magic nella colorazione 46 sempre magic 46 e che è successo con la tappina vediamone che non ho ancora mai aperto questi colori questo è tipo un oro rosa non so com'è che parlo oro rosa però non è un rosa barbie è proprio un colore bellissimo oh non riesco a farvelo vedere bene guardate che del colore grazie Valentina per il tuo codice sconto ancora che è stato molto utile per fare questi acquisti vediamo l'ultimo colore che ho comprato colorazione 42 magic eh sì è proprio nero ho preso un nero nero vediamo quando vedremo quante coprende quando vi farò il video a vostra richiesta quello che volete farò il video per mostrarvi com'è stesa sulle unghiette o sulle tappi però molto bello per adesso mi piacciono ecco finiamo questo e questo allora ho comprato anche una fresa una fresa super super fine oddio non facciamo i mani con i brilantini diciamo diciamo metto avanti questo ecco così è venuto con un pedo allora oh madonna comunque vedete ecco così è per pulire il giro cuticolo e dopo la la struttura fatta per perfezionare insomma non riesco a fare questo non è per per lo mia naturale per sistemare il gel lo metterò in azione ne ho uno uguale un pochettino più grande quindi volevo provare quello super fine per fare proprio dei piccoli quando dovrò fare dei piccoli sistemi sistemare alcune piccolissime cose nelle unghiette allora andiamo avanti ho preso questo pennello a lingua di gatto penso si chiama questa si questo tennellino la punta carbide vi dico già il prezzo costava 11 euro e 39 aspetta punta carbide 0,1 no questo è si si giusto 11 euro e 39 ne ho presi due allora questo pennellino invece è il pennello punta tonda numero 2 vedete ho puntato il numero 2 e della linea silver è costata 2 euro era in offerta ecco si 2 euro e 0,5 molto dovrò provarlo ma sembra già a tatto molto precisa per stendere il colore lo userò molto probabilmente allora chiudiamo ecco ma c'è perché è inutile se non si chiudi ne di qua ne di qua quindi a cosa serve ok lo tirò così allora poi 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 ecco vediamo cosa c'è in questa scatola e in quest'altra scatola scusate ok ok la forbice le forbici le forbici la forbice uguale allora apriamo questo pacchettino non mi ricordo cosa manca quindi cosa ci sarà dentro non lo so però so di aver comprato molte cose da loro ok mi piace vedere i colori sono colori scusate ma è il mio modo di reagire quando vedo cose belle allora apriamo questo questa scatolina vediamo vediamo sì 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 perché hanno messo i magic separati non ho capito vabbè per non mettere troppo in scatola forse allora apriamo questo mi piace quello che i miei occhi vedo nel strumento sono curiosissima curiosissima allora ah ok questo è il top che volevo provare il loro top mi hanno parlato molto bene questo è il loro top coat shine e stream shine vediamo com'è la densità è molto liquida molto liquida vediamo è no wipe è questo che cercavo no wipe no wipe se volete vi faccio un video dove vi faccio vedere come come rimane sull'unghia o sulla tip come se brilla se dura tutte quelle cose se lo volete sapere delle recensioni su questo stream shine scrivetemelo pure o vi farò un video io mi sembra già bello e questo è vediamo qualcos'altro pretty gel smalto semi permanente numero 081 081 copia bisogna aprirlo che colore è un blu nel video nella telecamera vedete un colore un pochettino diverso provo a cambiare luce se se da un effetto no qui così sono tanto blu invece non è non è un blu è un viola madonna sembra tanto blu dal video è un viola invece non riesco vediamo come questo spegniamo quest'altro vediamo se il colore esce no vedete sempre il blu invece è un viola ci ho provato ragazzi ci ho provato niente da fare vedete è un blu invece il colore è un viola andatelo a vedere tranquillamente sul loro sito ed è nella numerazione 81 ok non so se li metto dentro no li metto nella parte invece questo è un cos'è questo ah un oddio ah un camaleon quelli che dovrebbero oddio sono chiuse veramente molto bene bravi dovrebbe cambiare colore questo è la numerazione 2 0 2 oh wow no vabbè ragazze io adoro i glitter e vederli così è un regalo proprio un regalo un regalo al mio cuoricino cioè vedete in pratica questo cambia colore è un camaleonte non so come un camaleonte e se volete se volete un video ovvio non lo voglio ripetere per tutto quindi se volete vedere un video di qualsiasi cosa di queste che vi sto facendo vedere scrivetemelo e sarà fatto prima o poi no molto prima che poi ok guardate ci sono tutti i colori qui dentro per quelli clienti che magari non sanno quelle ragazze che non sanno che brillantina binaria un certo smalto e un certo gel color questo insomma va con tutto molto bello contento della mia scelta allora questo invece è il colore 160 sempre della linea pretty pretty gel vediamo che colore bellissimo riuscite a vedere anche voi questo violetto dentro non è un viola è un rosa ma con questo effetto wow non so spiegare non è forte però magari vedendo riuscite a capire e quando li stenderò riuscirete a vedere meglio così sì che è il colore questo veramente bello ottimo allora invece questa è la colorazione 013 un giallo fluo sì che l'ho finito ma ce l'avevo della marca passione unghie quindi devo ricomprarla e l'ho preso qua sì è proprio un giallo fluo bello ok poi andiamo questo colorazione 104 wow ma perché diventa tutto un blu nel video questo è un bellissimo verde un bellissimo verde no adesso mi sto arrabbiando se lo stengo su una tip che magari da lì si vederà il colore ma forse anche da qua ecco qui più lontano riuscite a vedere il colore da così lo vedete è un bellissimo verde ecco qui vedete wow ma che colore è questo è bellissimo ma oh non si vede bene che peccato che peccato veramente perché è un bellissimo verde e voi vedete tipo misto di blu verde no invece è un bellissimo verde 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 stupendo questo colore bellissimo si vede che sono già di parte perché amo i glitter e i brillantini e tutte quelle cose questo è nella colazione 159 fantastico amo questi colori molto particolari io questa invece vi esce giusta come la vedete in camera è così un verde bellissimo molto bello se mi sbaglio volevo prendere tutte cose particolari tutte cose belle tutte cose diverse aspetta cos'è questo vediamo gel polish supreme glitter sock off e di gel polish ok vediamo ma scherziamo è bellissimo anche questo poi bisogna vedere come viene quando lo stendo se è tanto coprente oppure mi lascia dei spazi bianchi eccetera se è full coverage già così è un bel un bel link è glitter bello anche natalizio sì anche per capodanno bello tutto ciò che brilla è glitter allora vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo in un prossimo video ovviamente ricordatevi di mettermi in like seguitemi perché ho intenzione di fare qualsiasi genere di video in questa pagina e in questo canale scusate e seguitemi anche su instagram vi lascerò tutto nell'info box ciao a presto